Dobbiamo pensare tuttavia che l'urto tra due particelle non è di per sé un elemento sufficiente perché avvenga una reazione chimica, che, lo ricordiamo, comporta la rottura dei legami chimici esistenti e la formazione di nuovi legami. Possiamo distinguere gli urti tra le particelle come efficaci o non efficaci. Ovviamente solo le collisioni efficaci comportano la formazione dei prodotti della reazione. Per velocizzare la combustione è necessario fornire al sistema un innesco, costituito da una fiamma viva o da una scarica elettrica. L'innesco fornisce alle molecole di metano energia sufficiente per superare il valore dell'energia di attivazione e far avvenire una reazione a catena. Infatti, la rottura dei legami covalenti tra idrogeno e carbonio fornisce alle molecole vicine sufficiente energia per superare il livello di attivazione. L'energia liberata dalla rottura dei legami covalenti è molto maggiore di quella necessaria per uguagliare o superare l'energia di attivazione delle molecole vicine. Quindi, l'eccesso di energia viene liberato sotto forma di calore. Grazie a tutti!